Eeeh 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 Vlog in Pura Milano Andiamo a Milano Veniamo a Milano Ehehe E' il tuo regalo Chied' il tuo papo natale Chied' tuo papo natale eh Eeeh Eccolo, eccolo Che ragione! Allora, raccogliamo il nastro! Ohhhh! Ohhhh! La bicicletta! Il mini a fare! E' la switch! Esatto! E' la switch! E' la si apre velocemente forte! No, non ci sono i pali! Eeeh! 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 Che auguri a te! Ok! Allora! Bella a tutti! Sono le... Sette gradi centigradi! Primo e ultimo autogrid! Questo è una prova! Test, ciao! Test, prova! 1, 2, 3! Allora, aggiornamento! Vi siete persi da mezzogiorno e mezzo adesso, quello che è successo! Perché... Ah, prima non avevo! Eh, appunto! Allora, sono andato al Mac, tipo, prendermi shake! Sono andato a Tutluca a prendermi... A prendermi... Però, vabbè, niente interessante, comunque! C'era solo il Duomo! Adesso... La parte buona arriva, nel senso! Quindi, ok! Qui, comunque... Sono le zone di Andrea Galeazzi, perché... Ci stiamo andando! Su, serio? Si! Nella piazza... Nella piazza Galeauquenti! Si chiama così! Sì, ovviamente, ok! Almeno... Io sto sparando a caso! Però penso che sia quello, hai capito? Perché stiamo andando a perdire la cazzo? Cioè... Cioè... FIGO! Ragazzi, abbiamo trovato... Cosa di Andrea Galeazzi! È stato emozionante! Ho pianto della felicità! È un video! È un video! È un video! È un video! Marte in pressione a caldo! Perfetto! Perfetto! Tipo quello che continuavamo a dare le faccine... Come devi rispondere? Siamo nel Roof Garden, b***h! No, Nita! Cosa hai fatto? Hai risposto una frusta! Milano! 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 Eccolo! Gang! Spiega cosa hai fatto! Ti ho mangiato il popolo! Ti può non alzare? Vabbè vabbè! La carta buttata! La rischio! Sì! Cosa vuoi dire? No, non sto con il mio cuore. Sì, ok. Andrea Gallazzi non ha preso il nostro bigliettino, però viaggio onorevole. Dove stiamo andando? Non lo so. Perfetto. Dove stiamo andando? Non lo so, nanch'io. Perché ho te l'ho chiesto? Eh? Perché ho te l'ho chiesto? Ho capito perché siamo a Trieste. Esatto. E stiamo andando verso la Rai, che non si sa quanto distante è. E dai in fondo fosse molto più distante, invece siamo usciti davanti in pratica. Restaremo fuori per sempre. Ma siamo arrivati? Siamo alla Rai in basso. Restaremo fuori per sempre. Stiamo entrando. Mi sembra l'entrata dell'instant a Budapest, non so se vi ricordate. Ok. Ok. Quella è un po' una rosca. Sì. La c'è l'entrata. Il nostro orale è Pitch. Guarda che bello orale che abbiamo. Ehm. Riscarzi è veramente come il disco. Perché avevano atti documenti in realtà. Siamo entrati. Guarda roba. Costa due euro comunque. Sto spessando. Ehm. Io devo dire una cosa che è davvero eberrante questa cosa. Perché non è possibile che dopo cinque anni di lavoro intenso mi dicano queste fesserie. Ehm. Ok. Io devo andare in maniera. Mi sono rotti con i piedi. i piedi. Qua cosa vuol dire chiedermi? Ehm. Ehm. Cozzatissima. Ehm. Ci hanno dato il numero con i posti perwer29. Ma che c'è da snap? Ve ruini. Grande scole? Sì. Un grandpa. Ti amo. Ehh. Ci hanno dato il numero con i posti per stoodarci? io lo sto registrando ma non so se effettivamente posso farlo sono strepato il biglietto e adesso cerchiamo il nostro posto ma chi è il tuo presentatore comunque dobbiamo farvi una confessione davvero importante l'acquario è vero ma raga l'acquario è vero e l'acquario è vero ci hanno dato un facsimile di un programma che non so se si è il 22 gennaio però c'è scritto Chiara Ferragni non sappiamo non sono quelli che vengono Galia e Londra e quindi vedremo che succede e proverò a spiegarvi un po' qual è il mio lavoro principalmente e come diciamo aspetto un attimo che vi faccio vedere ci facciamo aiutare i ragazzi della regia e fuori che tempo che hai fatto di sera abbiamo due ospiti molto speciali e partiamo con il primo ospite che è Chiara Ferragni un bel applauso per Chiara Ferragni e preparano il cantante in questo caso abbiamo solo un cantante senza band ma nel caso ci fosse una band noi entreremo con chitarra, batteria questo è un po' se mi capiterà di vedere San Diego non voglio imbaraccio perché questa è la mia prima volta in uno studio televisivo di solito era cavolo live per i concerti dai improvviso ok improvviso allora scusate per la mia dotica norma ma di solito c'era un youtube che corregge ok allora è finito però poi lo io ci sta c'è 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 c'è